Ecco, Amore era il programma a cui era più legata lei, ne ha fatti tantissimi, ma quest'ultimo in realtà ci ha messo veramente tutto il suo cuore, l'amore, perché ha voluto proprio dare spazio ai bambini, alle famiglie di poter adottare bambini a distanza e appunto vorrei, sembra una carambata, ma in realtà per celebrarla questo collegamento ci faceva proprio piacere, come dire, ci ha accarezzato il cuore e l'anima, c'è la mamma adottiva Cristiana Vomiero in collegamento, Skype, buongiorno, buongiorno, come stai? Bene, grazie. Cristiana, cosa è successo? Tu guardavi come una spettatrice qualunque, amante di Raffaella, guardavi questo programma qualche anno fa e lei ti ha dato la spinta, la voglia, hai detto, di fare questo passo? Diciamo che attraverso il suo racconto, attraverso il suo racconto, attraverso la sua voglia, le brillavano gli occhi, parlava dei bambini, a un certo punto è stato inevitabile, ho dovuto, ho voluto anche io cimentarmi in questa cosa e tra le 15 associazioni ho scelto Action Aid per sostenere a distanza un bambino, che poi ho continuato, anche oggi sono una sostenitrice, sempre seguita dall'associazione che ovviamente manda al genitore adottivo notizie in merito al bambino, alla bambina che adotta. In questo modo, diciamo, non solo si aiuta il bambino a sostenerlo in tutte le sue, in tutti gli aspetti della vita, quindi cibo, sostegno per la salute, per l'istruzione, ma anche appunto la famiglia dei bambini che vengono adottati e quindi diciamo che ecco appunto Raffaella Carrà attraverso questa trasmissione ha creato un filo con i telespettatori, secondo me ha creato proprio un'empatia incredibile, un'umanità che non mi aspettavo. E come te ce ne sono state tante di mamme che hanno deciso di adottare i bambini a distanza, di dare la possibilità proprio di sostenerli, di crescerli, di vederli nell'evoluzione proprio della loro crescita e credo che questo sia stato proprio un risultato fantastico del servizio pubblico con lo spettacolo, un grandissimo risultato che ha messo insieme le due cose.